E vabbè, la macchinetta che è fatta in Vietnam, giustamente, il vero caffè italiano. E in Italia cosa rimane, scusate? Ah, lo scontrino è fatto in Italia. Ah, perfetto. Ebbè, allora, ma chiaro, la compro subito. Sì, cosa fa partire? Una registrazione? Va bene, Mirietta, facciamo partire registrazione. Benito, sì. Mussolini, codice fiscale? MSS BNT 83, no, 1883. Perfetto, bravissima. H, 29, 017, M come Mussolini. L'abbiamo comprata? Sono contento! Eh sì, adesso vi mandate cosa? Che cosa? 150 cialde, di vero caffè italiano. Fatto a Zurigo. Ah, non è fatto a Zurigo. Dove è fatto? Mi scusi? Ad Amsterdam. Perfetto, sono molto contento. Grazie di cuore. Va bene, Mirietta, adesso non mi telefonate più, spero. Ecco, la smettete. Perfetto, grazie, Mirietta. Arrivederci. Miropashim, eh? Vedi che sono labanese.